Benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Se sei un vero tifoso dell'Azzurro e vuoi rimanere aggiornato con le ultime notizie e analisi sulla squadra di Calcio Italiana, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di lasciare un mi piace per supportare i contenuti. Secondo quanto riferito, il Chelsea sta intensificando gli sforzi per ingaggiare l'attaccante del Napoli Victor Osiman nel tentativo di battere Paris Saint Germain e Manchester United nella finestra di mercato. Il Chelsea è disposto a pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro dell'attaccante nigeriano per rinforzare il proprio reparto offensivo, secondo Rudy Galetti, che ha individuato nel giocatore un obiettivo privilegiato. L'audace acquisizione di Osiman da parte del Chelsea potrebbe avere un impatto importante sul mercato dei trasferimenti, così come sul Manchester United e sugli altri rivali della Premier League. Osiman è inseguito dal club della Premier League in un momento in cui anche lo United deve rafforzare il proprio attacco. Con Anthony Marshall che lascerà il club in estate e Rasmus Oglund l'unico attaccante riconosciuto in squadra, il club ha bisogno di un attaccante che possa condividere il peso di segnare gol e aiutare l'attaccante danese nella sua crescita. Un giocatore del calibro di Osiman, che si è dimostrato valido in Serie A ed è diventato uno degli attaccanti più ricercati in Europa, farebbe bene alla squadra dello United e alle sue ambizioni di trofeo.